Incidente domestico a San Cataldo. Una donna sarebbe caduta dal primo piano mentre faceva le pulizie, avrebbe riportato un trauma cranico e varie fratture nel resto del corpo. La 38enne sancataldese ieri sarebbe caduta dalla finestra del primo piano mentre stava effettuando le faccende domestiche nella sua casa di via Baba Urra. Celere l'intervento degli uomini del 118 che sarebbero stati allertati da chi avrebbe visto l'accaduto. Al momento la donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia.